13 gennaio 2023, non potevo non soffermarmi su questa scritta, amore universale. Che cos'è l'amore universale? Francesco ce lo insegnava e qui abbiamo il simbolo chiaro di cosa sia l'amore universale, che non si fa dividere dalle religioni. Vedete, al centro il segno del cristianesimo, la croce, ma poi c'è l'amore, l'amore del buddismo e c'è la religione dei musulmani e c'è gli ebrei. Insomma ci sono tutte le religioni in un unico sole. Il Cristo solare ce lo insegna bene, Francesco era un solare e qui c'è un portale solare che oggi abbiamo attivato e oggi è 13 gennaio 2023 che ha ancora una data 12. La prima data 12, 12 dicembre 2022, 21 12 2022, oggi è un altro 12 e il 3 febbraio 2023 sarà un altro 12 e questi 12 significano fine di un ciclo, inizio di uno nuovo, fine dell'era dei pesci, inizio dell'era dell'acquario. Ci siamo definitivamente fratelli e sorelle, ci siamo. I nostri fratelli scenderanno, i solari stanno aspettando, stanno arrivando sulla terra, l'avatar solare scenderà, il Cristo sta tornando, il mio cuore giubile e vittoria e gioia e letizia sono troppo felice e in questo luogo santo e benedetto dove ho attivato il portale, il portale del sole e della luna, il portale del numero 12, il portale di questo giorno speciale, di questo luogo santo e sacro, un altro portale ascensionale, il mio cuore si apre nell'amore universale. Non c'è un'unica religione, la religione divide, c'è l'amore universale. Questa è la religione del futuro della nuova era, l'amore, l'unica religione è l'amore e Francesco lo sapeva bene, l'amore per le creature, l'amore per il sole, padre e madre, l'amore per il creato, l'amore per ogni essere vivente. Francesco di tutto si è spogliato ma si è rivestito dello spirito e oggi lo faccio anch'io, mi spoglio di tutto, mi spoglio completamente. di Lucia nasce una nuova creatura che accoglie il logos solare, il Cristo in me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La mia religione d'ora innanzi sarà l'amore universale. Non appartengo a nessuno se non all'amore, l'amore dell'universo, l'amore universale. E San Francesco lo sapeva bene che non siamo soli nell'universo. Grazie padre e madre e così sì e così è. Amen. Grazie a tutti.